È un talk dal taglio tipicamente tecnico, voglio far semplicemente conoscere quello che è l'ITIL, IT Infrastructure Library, che è un insieme di best practices, che risale alla fine degli anni 80. Sono un po' di pubblicazioni, erano una trentina, adesso sono 5 pubblicazioni core, più altre complementari, che non si trovano gratuitamente, purtroppo. Di che cosa parla? Parla di service management, quindi si avvicina un po', se parliamo in termini di ISO, IEC, alla ISO 20000. Non è conosciuto da tutti, seppur è un framework comunque molto conosciuto in ambito aziendale, e quando se ne parla anche in ambito di sicurezza, tutti mi dicono, però è service management, magari con la sicurezza non c'entra niente. Ecco, non è propriamente vero, in ITIL ci sono molti riferimenti a elementi di sicurezza, sia applicata che, come dire, a livello più di management come gestione del rischio. Quindi con questa presentazione volevo fare una breve panoramica di alcuni dei controlli di sicurezza che sono presenti, quindi suggerire un approccio integrato, quando si fa service management e pensare anche alla security, o anche, come dire, quando c'è budget per il service management, si può fare anche security, dato che, come sappiamo, soprattutto nel panorama italiano, è un po' difficile riuscire a far scucire soldi in ambiti di sicurezza, a meno che non ci siano problemi eclatanti. Ecco, sì, due parole però prima, su che cosa non è ITIL? Allora, non è uno standard, quindi generalmente questo si sente anche in chi è addetto ai lavori, che lo chiama standard, ma in realtà, come saprete benissimo tutti, per fare un esempio, la ISO 27001 è uno standard, perché è qualcosa su cui si può eseguire un audit, quindi dire sono compliant o non sono compliant, anche rispetto a determinate parti, e non completamente rispetto a tutta la ISO. ITIL è un qualche cosa che io posso decidere di adottare o meno, sono dei best practices, sono dei suggerimenti, più che altro anche molte cose sono di buon senso, che però qualcuno ha avuto l'idea di mettere giù, scriverle, per farsele ricordare, per renderle utili anche a qualcun altro. Quindi, dicevo, non è uno standard, se sentite dei prodotti che vi vendono come ITIL compliant, in realtà non è assolutamente vero, perché questo dipende dall'implementazione e da come viene organizzato il progetto, quindi non dipende dal prodotto, non è vendor specific, chiaramente, tutti i vendor vi diranno che loro sono ITIL compliant, però. Allora, come dicevo prima, ecco, si crede che generalmente non ci siano riferimenti alla sicurezza e siano due cose completamente separate, mentre invece l'approccio corretto sarebbe quello di integrare il service management con la sicurezza. Vediamo brevemente, perché ce ne sono un bel po', vedrete delle slide piene di testo, ma quelle eventualmente magari potrete leggerle anche dopo, faccio una panoramica un po' veloce, perché c'è un esempio, un caso notevole, tra virgolette, che discuto dopo. Quindi qua vado un pochino veloce. Allora, qua vedete quattro delle cinque pubblicazioni core di ITIL, dove ho riportato alcuni dei processi descritti in queste pubblicazioni, perché sono quelli che vanno a toccare temi più vicini all'IT security. Non c'è, ad esempio, la pubblicazione del service strategy, perché non ce ne frega niente per il momento. Qua, ecco, vediamo per la pubblicazione di service design, quindi progettazione, e alcuni dei processi inclusi, quali sono alcuni dei controlli di sicurezza, ad esempio per la disponibilità dei servizi, capacità, quindi adeguamento, information security management, ritorniamo al discorso di prima, c'è un processo appositamente chiamato information security management, gestione dei fornitori, quindi assicurarsi che siano in linea con le nostre policy di sicurezza, continuità del servizio, perché è differente dal valabilito, ovviamente qua si parla di continuità del servizio in corso d'opera, quindi alta disponibilità. Service transition, vabbè, change management, queste sono cose che magari avrete anche già sentito sotto altri nomi, gestione del cambiamento, quindi tutto quello che riguarda i flussi approvativi, sapere che cosa succede in azienda, perché se un cambiamento avviene ma non è stato autorizzato, poi non si sa più che cosa succede, bisogna tornare indietro, piani di back out, business continuity plan, fino al disaster recovery, tutto questo in fase organizzativa, ma poi ci sono anche casi di esempio per l'implementazione, cioè ITIL, detto così in due parole, sembra un qualche cosa molto ad alto livello, ma in realtà vanno anche abbastanza nel dettaglio, nel suggerire approcci su come implementare fisicamente quello di cui stiamo parlando molto brevemente in questo momento. Knowledge management, tutto il processo di gestione della conoscenza, ho inserito soltanto un punto, corso di security awareness, che in realtà sarebbe una delle cose più importanti, è a metà, ma sarebbe una delle cose più importanti perché non lo fa mai un cazzo di nessuno in questo mondo, mentre invece costerebbe anche relativamente poco, semplicemente istruire anche solo i propri utenti. service asset configuration, ovviamente sapere che cosa abbiamo e come gestirlo. Ecco qua, in service operation, service operation è forse la pubblicazione più conosciuta in termini pratici, perché appunto è quella che si avvicina di più al fare delle cose, gestione degli eventi, quindi si parla più che altro di, se vogliamo associarlo a dei prodotti, prodotti CM, non so, Splunk, ArcSite, conoscerete tutti suppongo, quindi andare ad identificare quali sono gli eventi che ci possono interessare sui sistemi, sulla rete, su mobile, sapere come gestirli, correlazione degli eventi, quindi qua è dove ho scritto CM, gestione degli incidenti, che è quello che andremo a vedere dopo, perché c'è un caso interessante di differenza tra ETIL e NIST, che è un po' più un approccio di sicurezza, gestione dei cosiddetti problem, che sarebbero la root cause degli incidenti per ETIL, e la gestione degli accessi, chiaramente, perché sappiamo bene che quando ce ne andremo da un'azienda o quando qualunque dipendente se ne va da un'azienda, ovviamente il suo account rimarrà aperto. Continua al Service Improvement, questa è una pubblicazione che è un po' overarching tra le pubblicazioni di Core di ETIL, perché in realtà queste attività vengono applicate o dovrebbero essere applicate a tutto il resto, quindi non sono relative alla pubblicazione del Continua al Service Improvement, ma il Continua al Service Improvement si può traslare su tutte le pubblicazioni che abbiamo visto in precedenza e anche sui service strategy che non abbiamo visto. Ecco, un caso notevole, dicevo, che è anche il più famoso, la gestione degli incidenti, allora, com'è che chiama, questo probabilmente se siete venuti anche ad Akinbo avrete notato qualche riferimento con la presentazione di Davide Del Vecchio che ha parlato di incident response, ci sono due definizioni che ho voluto includere per far vedere il taglio differente, ETIL è più generalista, diciamo, con una definizione di incidente che è un'interruzione non pianificata nell'erogazione di un servizio o un abbassamento della qualità di erogazione di un servizio, quindi non va a dire un incidente di sicurezza. Mentre invece il NIST, nella 861, violazione o rischio in mente di violazione delle policy o delle best practices, è un taglio differente, chiaramente. però è perché abbiamo due focus diversi, ETIL pensa al servizio, il NIST va a pensare a una parte di servizi che è differente. Infatti ho riportato generalmente quelli che sono i macro step sotto cui poi bisognerà ovviamente andare a dettagliare le attività di ETIL e del NIST. Qua, come si può vedere, se io vado a gestire una procedura di gestione degli incidenti informatici affidandomi soltanto a uno dei due framework, lascio da parte qualche cosa. Quindi in realtà l'approccio corretto sarebbe sempre quello di pensare un po' più in grande. Ossia, quando vado a pensare all'implementazione, quindi già in fase di design, dire andiamo a vedere cosa dice uno, cosa dice l'altro, cerchiamo di metterli insieme per fare un qualche cosa di integrato e quindi di più efficace per la risposta degli incidenti. Perché non è detto che se ho un SOC e un service desk barra help desk, l'help desk non debba essere a conoscenza di nozioni base di sicurezza. In realtà la condivisione della conoscenza è proprio quello. Quindi quale scegliere? Dicevo appunto, sarebbe meglio valutare un approccio integrato perché vi posso garantire per esperienza che funziona meglio. Ecco qua, poi ho voluto raccogliere alcune raccomandazioni base, ossia, vabbè, l'awareness sicuramente ne abbiamo già discusso prima che non mi serve niente avere decine di policies, procedure, tutta documentazione. la solita quella che viene definita fuffa che però in realtà se vi è fatta bene serve, il problema è che poi la gente non la applica. Quindi su quello ci deve essere sicuramente un focus. Testare i miei piani di recovery, effettivamente se ho un piano di disaster recovery che poi non mi funziona in realtà poi devo chiudere l'azienda e questo non è bello, è capitato in un paio di casi. Vabbè, il paradigma CIA l'ho messo semplicemente perché ci stavo molto bene e perché quando penso al paradigma CIA in generale posso applicarlo a qualunque cosa mi venga in mente e cambio già il mio punto di vista su quella cosa. Comunicazione, ho messo anche le due frecce, orizzontale e verticale, orizzontale chiaramente comunicare tra colleghi e verticale per la scala gerarchica per la scala gerarchica scusate, che deve sempre esserci qualcuno che può decidere che sappia che cosa è successo. Quindi torniamo al decision making, il tracking, questa è una cosa abbastanza importante ma è sempre sottovalutata perché c'è sempre una mancanza di informazione o di registrazione delle informazioni nelle aziende per cui succede qualcosa ma in realtà la persona che dovrebbe saperlo non lo sa perché quando è successo chi ha rilevato la cosa non ha registrato le informazioni o non ha registrato la sufficienza. Ci sono degli strumenti che costano valangate di soldi al mondo parlo più che altro di sistemi di ticketing che in realtà più esteso sono IT Service Management dove le aziende preferiscono spendere un botto di soldi magari per un prodotto che costa 100.000 euro di licenza e poi sorvolare sul training oppure sull'enforce dell'inserimento di alcune informazioni da parte di chi dovrebbe farlo. Ecco non è molto saggio come scelta magari uno potrebbe considerare prodotti che costano un po' meno e andare poi però a utilizzarli a pieno in azienda per evitarsi problemi dopo. Come dicevo l'ho lasciato per ultimo ma in realtà è tra i più importanti l'integrazione che appunto come abbiamo visto prima se cerchiamo di avere un approccio un po' più olistico tra i framework che esistono quindi non pensare soltanto al Service Management e non pensare soltanto alla security probabilmente riusciamo ad avere un risultato migliore. Sicuramente quello che spero di lasciarvi con questo talk è il fatto di dire se sentite parlare di Service Management in azienda o di queste cose in generale e voi fate sicurezza non disperate perché c'è un modo per magari dirottare un po' di fondi anche sulla security perché Service Management se si parla di Service Management si parla di ETL bene o male è il framework più riconosciuto al mondo come avete visto ci sono degli elementi che richiamano la sicurezza quindi a seconda dello scopo del progetto ricordatevi che può esservi utile suggerire un approccio integrato perché ETL già lo fa ETL già richiama tutte le cose di cui ho parlato io ora se avete domande non ho neanche tenuto d'occhio grazie a tutti 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 grazie a tutti